Il giorno del primo test coincide con il primo bagno di folla, debutta il Foggia di Senallapatini in un amichevole contro una formazione dilettantistica di Casteldisangro. Una semplice sgambatura, nulla di più, un'annunciata valanga di gol ma soprattutto l'occasione per verificare i progressi di un gruppo che da una settimana si allena e suda nella quiete abruzzese. Sin da ieri alla spicciolata hanno cominciato a fare capolino i tifosi, tantissimi quelli che in queste ore stanno affollando Casteldisangro, arrivano da Foggia, dai centri della provincia ma anche dal nord e dalle località turistiche balneari. Il Foggia che aggrega e coinvolge non è uno slogan ma un dato di fatto, l'entusiasmo attorno ai rossoneri è palpabile ed altronde i numeri delle sottoscrizioni degli abbonamenti sono lì a testimoniarlo. Tornando al test di oggi per Stroop l'occasione di far ruotare tutti gli effettivi, ieri sera intanto è giunto in ritiro il patron fedele Sannella accompagnato dal direttore generale Giuseppe Colucci. Giusto in tempo per incrociare gli occhi i gonfi di lacrime di Mazza, lo spagnolo ha abbandonato la truppa, va in prestito al Pordenone. E solo un arrivederci è stato l'incoraggiante saluto di Sannella al giocatore che a Foggia, sposando una Foggiana, aveva deciso di impiantare le radici. Sempre riguardo al mercato, in partenza c'è Tito destinato al Modena. Si tratta anche per la cessione di quinto all'Andria, mentre in entrata il nome nuovo per la difesa è lo svincolato Simone Sini, 25enne, reduce dall'esperienza Lentella. Per il momento da Casteldisangro è tutto. Buon proseguimento di visione.